Ehi, che cosa stai facendo? Ehi, devi rilassarti, è tutto ok. Mi stavo solo assicurando che tu stessi bene. Ok. Non puoi prendere il sangue della gente quando ti muori. Io lo so, non lo farei in circostanze normali, ma... queste non sono circostanze normali. Porca vacca. Dottor Banner? Oh, no. L'Interstatale 9 ha 20 miglia dall'Interstatale 90. Se prendi l'Interstatale 90 c'è una fermata dell'autobus e potrai... Scusa. Di che parli? Ho trascorso... molto tempo... come... come bestione, quindi... Dottor Banner, da quanto sei qui? A... un paio... d'anni. Sì. È incredibile. Sì. Così dicono. Allora... per questo i bot I.M. ti hanno inseguita nel deserto? Non esattamente. Diciamo... che ho rubato qualcosa del server I.M. Ah, aspetta. Cosa? Perchè? Lo so, lo so, lo so, ok? Credo che dovresti vedere tu stesso. È Tartum? Sì. Perché stai disattivando i protocolli di sicurezza? Appena... Vero. Vero. L'ho pensato anch'io. Ha chiuso Cap nella stanza del reattore e poi ha cercato di rubare la chimera. Mi sembra esagerato. Sappiamo che il reattore aveva un malfunzionamento. È possibile che Cap gli abbia chiesto di disattivare i protocolli di sicurezza e di chiudere le porte? No, abbiamo sentito mille volte le testimonianze. Tartum e Monica erano sul ponte di comando quando è avvenuta l'esplosione. Per questo sono sopravvissuti. Ma questo prova che Tartum non era sul ponte di comando al momento dell'esplosione. Ha sempre mentito. Il resto della registrazione? Mi hanno disconnessa. Il resto del video è danneggiato. Sì. Ascolta. E se vi avessero incastrati? Ok. Tartum, l'A.M. Questa cosiddetta cura. Le cose non tornano. C'è qualcosa di sbagliato. Me lo sento. Tu no. E io che pensavo fossi una ladroncola venuta per rubare lo scudo di Cap. Quindi... Pensavo... Il signor Stark ci aiuterebbe. Tutto il server si basa sulla sua tecnologia. Lui può sicuramente accedervi, no? Sì. C'è una fermata dell'autobus sull'Interstatale 9. Viaggia verso est. Ti porterà ad alcuni vecchi amici che potranno aiutarti. Maria è affidabile. Dille che ti mando io. E falle vedere tutte queste cose. Ma hai visto il video? Sai che qualcosa non va, no? Mi dispiace, ma non posso aiutarti. Vorrei davvero scusami. Ma tu sei il dottor Banner. Una delle menti più geniali dei nostri tempi. Più geniali? Ma guardati. Guarda cosa abbiamo fatto. Non sai quanto sia pericoloso. Tarleton chiama quelli come me inumani. Sostiene che siamo malati. Violenti. Dei pazzi. Dice che la nostra malattia finirà per ucciderci. Io non gli credo. Cercherò da sola il signor Stark. Aspetta. Io... Ti serve un passaggio? Davvero? Davvero?